oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino ciao a tutti noi siamo alberto arianna francesco oggi vi leggeremo il testo numero 7 il signore vestito di scuro dalla camminata attenta e pensosa sa di essere inseguito nessuno glielo ha detto non ve nessuna prova che le cose stiano a quel modo eppure egli sa con assoluta certezza che qualcuno lo insegue non sa nulla sull'inseguitore ma sa che l'inseguimento è cominciato da tempo che esso ha una ragione sebbene nessuno eccetto l'inseguitore la conosca e che viene perseguito con cura e accanimento di questo inseguimento egli sa poche cose in primo luogo egli è meno inseguito quando si trova all'aperto nella folla che non quando si trova a casa non intende dire che l'inseguimento rallenti che l'inseguitore sia impedito dalla folla ma che l'inseguimento subisce una sorta di diminuzione quasi si alterasse di spazio in cui opera sa che l'inseguimento è velocissimo e che poiché la camminata del signore è lenta è inevitabile che egli venga raggiunto ed anzi dovrebbe essere già stato raggiunto e sarebbe dovuto accadere quel che non può non accadere quando qualcuno viene raggiunto che cosa egli lo ignora ma sa anche che l'inseguitore non lo raggiungerà mai neppure se egli si fermerà su una panchina fingendo di leggere il giornale in totale resa e in difesa attesa l'inseguitore sa che raggiungendolo cesserebbe di essere l'inseguitore ed è possibile che nello schema della creazione ci sia posto per lui solo come l'inseguitore quando il signore sta nella sua casa il fragore dell'inseguimento l'incalzare il battere degli annumerevoli piedi lo assorda non sente il rumore dei fogli parola ad alta voce parla ad alta voce per farsi sentire da se stesso in realtà in questa rigorosa o è forse arcaica di visione raggiungibile l'inseguito non può liberarsi dalla comunica cognizione di essere per il bersaglio sa che alle sue spalle lo spazio si deforma così da frustrare qualsiasi speranza di raggiungerlo ma sa anche che il suo il tempo non gli amico la sua deformità è intesa solo a custodire la funzione del bersaglio il bersaglio si chiede se l'inseguitore si infelice già che l'orrore della condizione di entrambi sta in un compito ineseguibile pensa se vi sia un modo per voltarsi di scatto e cominciare a inseguire l'inseguitore buonasera a tutti io mi chiamo davide francesca e oggi doppieremo la scena 3 di le foglie di cronk ciao cronk oh quel rudy quando tempo rudy che ti è successo sei senza sei senza vestiti oh figurati me li sono venduti per comprare dell'alta prozione di isma ti sei vendute vestiti oh ho venduto tutto abbiamo anche venduto la casa di riposo la casa di riposo a te ricordi siamo rimasti al verde è terribile lo so non posso permettermi altre pozioni tu non puoi fare niente per aiutare un vecchio amico posso regalarti una potiga il mio tesoro il tesoro del diamante teniamo tutto per noi non dobbiamo più dirglielo no 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 un momento qui c'è qualcosa che non guarda te ne sei accorto da solo geniaccio ma è così evidente è così evidente accorto di cosa aspetta buongiorno a tutti buon pomeriggio noi siamo riccardo Davide Antonino e oggi per il laboratorio speed hub vi raccontiamo la storia dell'inalazione ah le piccole malattie dell'infanzia che ti lasciano il giorno di convaliscenza per leggere ha letto Bugs Bunny purtroppo quando si va avanti negli anni i piaceri della malattia si fanno rari ci rimane il punch d'accordo bere un bel punch forte facendosi commiserare è un momento prezioso ma forse è più sottile la voluta dell'inalazione non ci decidiamo subito da lontano l'inalazione pare amara un po' velenosa l'associamo i gargarismi che lasciano in bocca un sapore sciapo e ramato ma in fondo stiamo così male con la testa pesante e congestionata e a un tratto l'abbiamo abbiamo l'espressione che staremo un po' meglio in cucina si vicino ai fornelli al lavello al frigo una certa semplicità funzionale può farti bene ed ecco il flacone dei soffumigi sul ripiano accanto alle bustine di infuso di tiglio e di tè sull'etichetta un profilo fuori moda aspira con delizio una voluta di fumo candido come la neve e questo a deciderci l'impressione di ripetere un rituale fuori moda facciamo scaldare l'acqua una volta abbiamo avevamo un inalatore di plastica composto di due parti che uscivano sempre di posto e che lasciava dei segni sotto gli occhi tenendo il libro un po' discosto si poteva persino leggere ma adesso l'apparecchio l'abbiamo perduto ed è meglio così basta versare l'acqua bollente in una bacinella aggiungerci una cucchiaiata di quel liquido dorato traslucido che appena versato sprigiona una nuvola verdastra pisello secco ci copriamo la testa con asciugamano di spugna ecco comincia il viaggio che cinghiotte da fuori abbiamo l'aspetto di uno che si cura in modo sano con un'energia meccanica e docile sotto è tutta un'altra cosa ci invade una specie di rammollimento celebrale e quasi subito sprofondiamo in un umiditore confuso il sudore sale alle tempie ma è dentro di noi che tutto si gioca una respirazione regolare profonda in apparenza impegnata a liberare metodicamente i seni frontali ci inizia il potere del suffumigio perverso perfettamente immobili vaghiamo deliziosamente con larghi gesti d'anfibio nella giungla pallida del veleno verde chiaro l'acqua viene dal fumo il fumo viene dall'acqua ci dilatiamo ci dilatiamo nell'evanescenza poi arriva il torpore vicino lontanissimo vengono da un mondo semplice rumori di preparazione di un pasto ma immersi nel vapore di ebrezze interiori non vogliamo più sollevare il velo e noi vi ringraziamo per la vostra calorosa per il vostro caloroso ascolto e noi vi auguriamo buon pomeriggio e una buona estate a tutti dal teatro 8 dal laboratorio gaspidab salve a tutti io sono simone armiento e oggi voglio parlarvi dei pilastri della creazione mi riferisco ad una fotografia ripresa dal telescopio spaziale della u-ball sono colonne di gas interstellare e polvi risibili che si trovano nella nebulosa dell'aquila è trascattata il primo d'aprile del 1995 eh sì so che sembra ma non è uno scherzo e viene considerata come una delle dieci migliori fotografie scattate proprio dalla u-ball queste immagini hanno aumentato notevolmente il nostro livello di comprensione dei processi di formazione stellare in atto all'interno della nebulosa si pensa che le sue aree oscure siano associate a proteste o comunque ad oggetti stellari molto giovani la struttura pilastri ricorda altre strutture molto simili come quella della grande area di formazione stellare in cassiopea nota con il soprannome di montagne della creazione i pilastri sono tre strutture molto dense di gas e polveri situati nel bordo sud orientale della nebulosa sono state create dall'inizio del vento stellare delle stelle giganti della masso aperto centrale se per esempio andate a vedere su google sono più iconicamente rappresentate tre colonne la struttura ionizzante è ben conosciuta grazie all'avvento dei telescopi spaziali la radiazione ionizzante proveniente dalle stelle della masso comprime i gas delle nubi molecolari facendole aumentare la pressione in superficie ma si genera un flusso fotoevamporato di materiale ionizzante nella parte opposta alla sorgente del vento stellare e questo è il fenomeno responsabile della struttura pilastro delle stesse nubi la materia a densità inferiore è la prima ad essere spazzata via mentre il nucleo più denso ulteriormente compresso a causa dei forte all'ondatto d'urto sopravvive resistendo alla forza tuttavia le immagini riprese nel vicino infrarosso mostrano che le prime due colonne possiedono una struttura relativamente poco densa concentrata da dei nuclei molto più densi che la difendono le azioni sgregante del vento a su destra dei pilastri si trova un'ulteriore struttura nubolosa molecolare l'hanno solo catalogato con il termine colonna quarta situata nei pressi di un noto oggetto il erbing haro definito hh 216 il mio commento finale le trovo straordinarie queste costellazioni i colori la forma e soprattutto la forma stessa che le fanno somigliare a delle rappresentazioni di dragoni che ascendono verso gli astri dello spazio veramente meraviglioso un vero spettacolo di luci e colori e quello che è proprio la nostra via lattea grazie a tutti e buona domenica buongiorno a tutti qui è federico e riccardo tucci e quest'oggi vi presentiamo una scena di hotel transilvania ti prego non uccidermi sono così giovane voglio mettere ancora tutti i posti ho i biglietti per secco certi direi di mamma aiuto ah me ne vado subito ah sta zitto adesso non riesco a pensare con tutto il baccano che fai scusa che hai mettito a dormire aspetta non mi vuoi succhiere il sangue ah la classica paranoia umana il sangue umano è troppo grasso non sembra che schifo è sacerdito allora dracola non beve il sangue umano no è da una vita che uso il suo grato o sangue frio oppure si mette il sangue non senti nessuna differenza quindi wow tu sei cioè il vero conto dracola tipo sono dracola bluh 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 questa è una cosa che non ho mai detto in vita mia bluh 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 non so chi l'ha pentata ehi posso chiederti cos'è assolutamente questo posto cos'è questo posto un luogo l'ha mai costruito per tutti i mostri che si aggirano furtivi nell'ombra per nascondersi dalle persecuzioni del genere umano un luogo per loro e le loro famiglie dove venire ed essere se stessi un luogo privo di torce forconi fole e inferocite un luogo di pace rilassamento e tranquillità figo c'è tipo un hotel per mostri si esatto un hotel per mostri alla faccia del sintesi ok piano adesso basta ce l'arrivo via oh mamma ora sei un pipistrello ho sempre voluto volare che effetto fa è uno sballo aspetta aspetta voglio restare posso avere l'autocofre di frankenstein e conoscere l'uomo invisibile ehi se fino a mano in bocca all'uomo invisibile mi scoppare grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata